Il Signore opera cominciando dall'interno, il mondo opera cominciando dall'esterno, il mondo ci propone di togliere la gente dai bassi fondi, Cristo vuol togliere invece i bassi fondi dalle persone, per poi lasciare che siano esse a togliersi dai bassi fondi. Il mondo vorrebbe plasmare gli uomini cambiando il loro ambiente, Cristo cambia gli uomini i quali poi cambiano il loro ambiente, il mondo vorrebbe plasmare il comportamento umano, mentre Cristo può cambiare la natura umana. Ma Cristo può cambiare la natura umana. Grazie. 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 Grazie.